Il Consiglio Comunale è stato sospeso dopo lo scambio al vetriolo tra centro-destra e centro-sinistra sul caso Cimitero. I fatti risalgono al 2007, quando ancora il Movimento 5 Stelle non era sui banchi. All'ordine del giorno oggi c'era la votazione della modifica al piano regolatore, quello che prevede l'utilizzo di una nuova area che, secondo i grillini, risulterebbe area di verde pubblico, dunque inutilizzabile. Questa è una faccenda estremamente grave perché non esiste nel mondo che un'aggiunta possa prendere una decisione del genere, cioè una decisione che costringe un Consiglio ad approvare una variante al piano regolatore. Noi vogliamo sapere perché oggi siamo costretti a fare questo. Il problema qual è? Forse quello di dover pagare una penale? Ma la penale di cui parliamo, da chi sarà pagata? Da un comune che in realtà non ha fatto nulla o da un'aggiunta che all'epoca ha fatto una delibera illecita? Questo si chiama fondamentalmente eccesso di potere. A far insospettire il Movimento 5 Stelle anche la scelta della ditta paltatrice, una ditta scelta nel 2007 e che vede oggi scaduto il termine del project financing, ma che dagli atti risulterebbe rinominata anche per i lavori di ampliamento. Questa realizzazione viene data oggi a convenzione scaduta, viene data nuovamente alla stessa ditta FIDIA di Angelo De Cesaris, anche se la convenzione è scaduta, se il progetto è un progetto che è stato presentato in variante al piano regolatore. Quindi noi ci chiediamo perché un altro bando non è stato fatto, perché visto che la scadenza dopo sette anni, dalla data di stipula del contratto nel 2006, si sapeva che questo contratto sarebbe scaduto, perché la Giunta non ha indetto una nuova gara, perché oggi ci si dice che siamo costretti ad approvare questa delibera perché sono finiti i posti nei cimiteri. Non lo sapevamo che questo sarebbe successo? Non potevamo fare delle cose prima di adesso? Perché tutto questo avviene affidando nuovamente l'incarico sempre alla stessa ditta?